ciao a tutti ragazzi io sono zisa benvenuti alla zisa tv oggi torniamo a parlare di yankee ma questa volta in versione car jar questa sarà la profumazione della mia macchina di quest'estate la black coconut quindi il cocco nero ovviamente fragranza nettamente palesemente estiva andiamo a leggere la descrizione meravigliosa come sempre di della yankee questa è una fragranza fiorita un tramonto in paradiso l'intensità di accordi ispirati al cocco unita a note che richiamano legno di cedro e fiori tropicali fa da preludio a una serata di raffinata tranquillità le note aromatiche sono di testa ananas fruttato e cocco note di cuore fiori di cocco note di fondo note talcate note legnose e muschio adesso questa l'andiamo a montare in auto e dopo circa una giornata perché questa dura tre settimane anzi quattro settimane la profumazione che rilascia all'interno dell'automobile quindi ci vediamo in macchina eccoci qua ragazzi per parlare di questo black coconut versione giara da auto ragazzi io appena l'ho aperto e ha sprigionato in auto una profumazione di cocco impressionante sa di cocco e sa di palma sa di estate l'odore del cocco si espande subito tutti gli altri profumi servono per intensificare questa nota di cocco di palma sa proprio anche di verde ricorda l'odore delle palme e quindi sa tanto veramente di mare questa fra quelle che ho provato è quella che ricorda di più il mare e che ricorda di più l'estate mi fa sentire veramente in sicilia è veramente meraviglioso black coconut da quel fra quegli estivi il più buono in assoluto si amate l'odore marino si amate i ricordi del mare si amate l'odore del cocco quando lo aprite quell'odore del cocco quel l'odore dell'acqua di cocco quindi quell'acqua aromatizzata il gusto dell'acqua di cocco l'odore delle palme è semplicemente meraviglioso io se amate l'estate e se amate il ricordo dell'estate soprattutto se ci vivete lontano come me io vi consiglio assolutamente di provare questa black coconut e magari anche nella versione da casa appena sarà la prenderò anch'io se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate condividete iscrivetevi all'azista tv e ci vediamo al prossimo video e e e e e e e e